10 miliardi spesi dall'aprile del 2009, 900 milioni nel 2016 e altri 4 miliardi previsti dal prossimo anno. Sono questi i numeri della ricostruzione post-sisma dell'Aquila e dei 56 comuni del cratere. Soldi, tanti soldi, che però in parte sono finiti nelle mani di speculatori e di organizzazioni criminali. È quanto sostiene l'Italia dei Valori che con i due senatori Maurizio Romani e Alessandra Bencini ha presentato un disegno di legge per istituire una commissione parlamentare d'inchiesta sui fondi per la ricostruzione post-terremoto. La commissione avrebbe il compito di svolgere verifiche sull'utilizzo delle risorse stanziate e sulla validità dei collaudi e delle certificazioni per le diverse fasi di costruzione dei moduli abitativi provvisori. Senza dimenticare inoltre le indagini sulla regolarità delle procedure per gli appalti pubblici legati alle opere di ricostruzione. Alla conferenza stampa di questa mattina, organizzata alla sala Guido Polidoro del Palazzo dell'emiciclo all'Aquila, ha partecipato anche il segretario nazionale dell'Italia dei Valori, Ignazio Messina, che ha spiegato il senso della proposta al governo. L'obiettivo è una ricostruzione vera e non un arricchimento per la criminalità organizzata perché qualche imprenditore che ha goduto nel momento in cui il terremoto si è verificato. Creare opportunità significa capire perché i tempi si sono allungati, perché gli appalti sono costati dieci volti rispetto al programmato. Se ci sono i responsabili devono essere puniti. L'obiettivo finale non è mettere il cappello, il comitale dei valori sull'iniziativa, ma fare in modo che i cittadini dell'Aquila e i cittadini abruzzesi abbiano una risposta e una soluzione soprattutto. Sintetizzando come ha valutato e come valuta questi primi sette anni, ci sono stati dei problemi immagino? Certamente sì, tra luci e ombre, certamente qualcosa è stato fatto, però pensare che il programma case, gli immobili realizzati, i balconi sequestrati perché non costruiti bene, evidentemente c'è qualche problema. E allora rispetto a un primo impatto di ricostruzione bisogna vedere poi cosa hai ricostruito. Se hai fatto case di cartone non è una ricostruzione, è una cosa presa in giro. Se la criminalità organizzata è entrata negli appalti e ne ha lucrato, è un dramma per un territorio, anche perché la criminalità una volta che arriva non è che se ne va, rimane anche per il giorno dopo. E quindi questo noi vogliamo andare a verificare, perché riteniamo che ci siano stati dei problemi, degli abusi sulla ricostruzione e quindi la parte onestra dell'Abruzzo è stata fortemente danneggiata.